amministrativa potenza e bianca andretta la candidata sindaco per il centrosinistra regionalismo differenziato giannola di svimezza matera è solo un'illusione superponte confindustrialberg in italia sold out solo a matera mobilità nella città dei sassi tutte le novità e nissue missioni alcova nessuno sforamento a matera e ad irsina i riti della settimana santa picerno risolta la debacle con il taranto ben trovati in studio in primo piano la politica le amministrative di potenza e bianca andretta la candidata sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative del 26 maggio prossimo la consigliera comunale uscente bianca andretta e la candidata del centrosinistra alla carica di sindaco di potenza la scelta sull'avvocato 44 ne è stata presa da partito democratico più europa centro democratico area popolare psi articolo 1 le forze del centrosinistra della città di potenza seguito degli incontri del tavolo politico che si sono svolti nei giorni scorsi e scritto in una nota hanno ritrovato sintonia sulla base della volontà comune di proporre una coalizione unita altamente competitiva in grado di vincere stoppare le velleità dei populismi e dei sovranismi nella nota è anche evidenziato che a conclusione del percorso di condivisione analisi politica il partito democratico più europa centro democratico area popolare psi vista la disponibilità di articolo 1 a convergere sul nome di dario de luca o a condividere con il sindaco sciente un altro degli assessori o consiglieri comunali convergono sulla candidatura sindaco di bianca andretta donna professionista dal profilo politico strutturato e scritto nella nota rappresenta anche quei mondi del civismo e dell'associazione di cui questa città non può fare a meno ed ora parliamo di autonomia differenziata interviene la svimez afferma è soltanto una illusione un tentativo di colpo di stato così adriano gianno la presidente svimez l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno sul tema del regionalismo differenziato al centro del dibattito nazionale a seguito delle iniziative intraprese da lombardia veneto emilia romagna per ottenere il riconoscimento di maggiori forme di autonomia il nord ha spiegato nel dibattito organizzato a matera dal circolo culturale la scaletta ha delle presunzioni sulle sue capacità di uscire dalla crisi in autonomia ma queste presunzioni sono solo illusioni la questione meridionale vive una fase di eutanasia e si con questo sistema e di fatto perché c'è l'immagine cosa accade anche se ci fosse questa autonomia in questo senso si accelererebbe il processo ma già ora con questa diversità dei diritti di cittadinanza con una diversità di ingresso nel mercato del lavoro e abbiamo che i giovani se ne vanno lo sapete voi non si iscrivono più macro università di qua perché iscriversi al nord da più probabilità e quindi c'è anche una discriminazione di classe perché chi è che può andare a studiare a bologna milano se non ha una famiglia che dà le sue rimesse all'emigrato non più le rimesse degli emigrati come era un tempo quindi c'è un impoverimento sia della ricchezza nel sud sia della ricchezza naturale il capitale umano che se ne va e se ne va quello giovane e quindi la piramide demografica del sud si sta invertendo sta diventando la zona vecchia in vent'anni sarà la zona vecchia e questo vuol dire che si chiude il problema della questione marinale si risolve da solo è un metodo un po pesante e questo pesa poi su tutto il paese perché la illusione del nord con questa autonomia loro risolvono la loro criticità la loro criticità resta e peggiora invece al dibattito coordinato da antonio nicoletti hanno partecipato il sindaco di matera raffaello de ruggeri e il presidente del circolo la scaletta francesco viziello il decreto che sblocca i cantieri che dovrebbe far ripartire le opere si rivela un semplice blef da parte del governo che lo utilizza invece per colpire disarticolare il codice degli appalti il vero problema del paese sono i grandissimi appalti per i quali spesso viene fatta una progettazione non corretta o gare fatte male la norma fino a 200 mila euro non si sa che effetti avrà e quanto scrivono in una nota la will e la fene al will basilicata che esprimono dissenso e preoccupazione per un paese che rimane bloccato nello sviluppo e nella crescita oltre a essere contrari al provvedimento adottato lo contrasteranno in tutte le sedi opportune la vertenza venum 3.0 i sindacati annunciano le azioni di protesta concrete e serie azioni di protesta e quanto reso noto dai sindacati di categoria filcams cgl e will tox will in merito ai mancati versamenti agli ex lavoratori licenziati per giusta causa da parte della venum 3.0 l'azienda potentina di servizi informatici risolti i problemi finanziari causati dalla sua monocommittente dopo aver siglato un verbale d'incontro lo scorso 28 gennaio si era impegnata a creare un fondo per i 70 dipendenti dimissionari versando una somma di 24.500 euro ogni fine del mese liquidità che a tutt'oggi e la denuncia dei sindacati i lavoratori non hanno percepito provocando rabbia e sconcerto i vertici aziendali infatti dovevano aumentare le rate agli ex dipendenti con credito vantato man mano che gli aventi diritto avrebbero soddisfatto la loro richiesta economica lo scorso 11 aprile l'amministratore aveva peraltro comunicato anche a mezzo stampa che avrebbe effettuato un bonifico di circa 20.000 euro che suddiviso tra gli ex dipendenti dimissionari sarebbe consistito in circa 285 euro a persona non solo non è stato effettuato il versamento hanno rincarato le segreterie sindacali ma l'importo versato il giorno seguente all'annuncio in forte ritardo ammonta 250 euro per gli ex dipendenti con contratto a tempo indeterminato e contratto co 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 ed altri dipendenti ancora operativi quale arretrato oltre lo stipendio corrente nessun versamento invece per altri tre tra i quali il rappresentante sindacale interno cgl e un'altra ex dipendente con invalidità accertata e purtroppo seri problemi familiari noti all'azienda reiterati e gravi atteggiamenti che la filcams cgl e la wiltox will congiuntamente ed insieme agli ex dipendenti porteranno ad azioni più incisive per mantenere alta la guardia e risolvere la questione ed ora parliamo di economia di turismo in particolare perché interviene con interviene federalberghi in italia soltanto matera ha raggiunto il sold out il settore alberghiero parte bene ma mai con il pienone eccezione di matera sold out a dichiararlo carmela cola jacovo vicepresidente di associazione italia confindustria alberghi la nomina capitale europea della cultura è stata un'opportunità che la città ha saputo cogliere così come emerso dall'indagine di confindustria alberghi che rileva per il settore un tasso di occupazione delle camere superiori al 90 per cento per il superponte segno questo che evidenzia l'importanza dei grandi eventi sul territorio come anche confermato da venezia che per i ponti di primavera e grazie all'apertura delle 58 esposizioni internazionali d'arte vedrà un'occupazione superiore all'80 per cento roma e firenze si confermano con un dato medio rispettivamente del 75 e del 70 per cento mentre milano e torino sono al 50 per cento sempre rilevante la componente internazionale che vale mediamente per il 65 per cento delle prenotazioni ma con la pasqua alta e ponti del primo maggio gli alberghi stagionali inaugurano l'apertura nelle località balneari con un'occupazione al 55 per cento nonostante le incertezze meteorologiche per tali destinazioni la clientele nazionale addirittura per il ponte del primo maggio si arriva a superare l'80 per cento delle prenotazioni con un potenziale possibile incremento dovuto alla tendenza sempre più frequente di ricorrere alle prenotazioni la second ma per matera non c'è posto è sempre in tema di turismo nel prossimo servizio tutte le novità in tema di mobilità e servizi pubblici da parte del comune di matera matera città misura di turista potenziato mi servizio per l'accoglienza ipotizziamo il percorso di chi arriva piazza matteotti è il centro nevralgico il punto di arrivo e di ripartenza ecco le novità per l'area piazza matteotti è il punto di arrivo di tutti gli autobus dei turisti qui possono quindi atterrare far scendere gli ospiti quindi turisti e nel giro di 10 minuti poi andare via e uscire dalla dalla città per recarsi nei parcheggi privati oppure quelli messi a disposizione della dall'amministrazione che nella zona di di lamartella dalla stazione abbiamo anche il servizio delle navette per quanto riguarda il il rioni sassi quindi bus navetta sassi e c'è anche il punto di ripartenza per il belvedere abbiamo potenziato il servizio della dei bagni tant'è che abbiamo inserito anche dei dei bagni aggiuntivi e oltre a questo stiamo anche sistemando la parte del del verde servizi igienici nuovi anche negli ipogei di san francesco come per la stazione gli orari sono continuati dalle 9 alle 21 aperture allungate anche per gli altri bagni pubblici con orari estesi fino a fine manifestazione nelle giornate particolari dopo piazza matteotti si prosegue da via don minzoni con tanto di aria pedonale per chi non avrà optato per le navette anche queste potenziate per pasquetta 25 aprile primo maggio le novità è la realizzazione di quest'area pedonale quindi questo boulevard che accompagna quindi turisti che scendono in piazza matteotti verso il centro della della città inoltre sulla destra la viabilità è chi scende quindi da via domenzoni la svolta sinistra è vietata quindi devo andare o diritto o girare sulla sulla destra presto sarà terminato anche il tratto di via scanio persio proseguiranno anche per via scanio persio la parte di boulevard martedì si ricomincerà quindi con queste opere di realizzazione di questi cordoli e quindi ci sarà sia una parte pedonale che una parte carrabile ovviamente con le regole della ztl sono state anche installate delle zone di carico e scarico proprio predisposte per agevolare i commercianti dell'area infine sempre per pasquetta 25 aprile primo maggio tutte le ztl saranno attive h24 con divieto di sosta e transito anche per i residenti e gli altri autorizzati dalle 9 alle 21 per pasquetta infine tutta la gestione dei flussi è stata definita durante un tavolo tra polstrada polizia e comune sistemi di sicurezza e accoglienza garantiti insomma nella capitale della cultura ed ora parliamo di scuola per quanto riguarda la scuola abramante di matera è tutto da rifare scuola abramante tutto da rifare il comune ha rescisso il contratto con la ditta sicelia costruzione spa vincitrice della gara d'appalto per la ricostruzione del presso scolastico tra le motivazioni elencate nella determina firma del dirigente santelo murno vista la relazione dell'architetto giuseppe gandi l'abbandono del cantiere considerato l'assenza di personale operativo di vigilanza teso a impedire eventuali ingressi non autorizzati il grave ritardo nei lavori che ha irremediabilmente compromesso l'esecuzione degli stessi nei tempi contrattuali il mancato pagamento delle maestranze impegnate sui cantieri nonché di diversi subaffidatari nonostante la stazione appaltante abbia liquidato le somme maturate disposta dunque la notifica della determina la compagnia elba di assicurazione con cui l'impresa ha stipulato polizze fidei ussiorie ai fini dell'escussione immediata e conseguente pagamento delle relative somme in favore del comune di matera successivamente si dovrà proporre la sottoscrizione del contratto alla seconda classificata nella gara d'appalto che dovrà accettare di proseguire lavori secondo il progetto di chi ha vinto in caso di risposta negativa la graduatoria scaderà ancora e se nessuno accetterà di terminare l'opera sarà necessariamente indetto un nuovo bando la scuola ricordiamo fu chiusa nell'agosto 2012 dopo che i tecnici del comune a seguito di un sopralluogo avevano riscontrato dei problemi statici e carichi verticali per questo motivo il sindaco di allora salvatore adduce dovette mettere l'ordinanza di chiusura della scuola poi la demolizione e il bando di gara per la ricostruzione esprimo ancora una volta il mio disagio sottolinea il sindaco di matera raffaello de ruggeri di fronte a una normativa sugli appalti che impedisce i comuni di selezionare per la partecipazione alla gara imprese colla daute e affidabili queste sono le conseguenze di una legge che persegue il fine della trasparenza ma che in realtà determina solo ritardi e lungaggini nell'esecuzione delle opere emergenza sanitaria per far fronte all'allarme il bando dell'asp per 80 medici un bando per l'attivazione del corso di formazione per medici finalizzato al conseguimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività di emergenza sanitaria territoriale è rivolta ad un massimo di 80 professionisti l'iniziativa dell'azienda sanitaria locale di potenza per fronteggiare la nota carenza di camici bianchi sul territorio un problema che riguarda l'intera basilicata come altre regioni italiane il bando è stato indetto dal dipartimento emergenza urgenza dell'asp coordinato dal dottor di odoro colarusso pubblicato sul sito web ufficiale con scadenza il prossimo 6 maggio in particolare il corso avrà una durata di quattro mesi per un totale di 360 ore e avrà l'obiettivo di creare un salvavita sull'organico di medici a disposizione da impiegare nel 118 già negli scorsi mesi è emerso a mezzo stampa colarusso aveva comunicato le difficoltà operative a seguito della chiusura della postazione automedicata di senise nei turni della mattina e del pomeriggio del primo gennaio in altro turno di notte e potrebbe ricapitare in altre giornate l'esigenza è quella di presidiare zone e snodi viari importanti con mezzi e personale pronto a rispondere alle emergenze e dare soccorso con tempi brevi intanto con l'insediamento della nuova giunta regionale c'è attesa sulla condivisione di questo ed altri progetti magari con finanziamenti idonei implementando infermieri e medici l'ambiente parla di evento limitato e di nessuna anomalia all'eni dopo l'incidente di ieri mattina la fuoriuscita di gas dal centro olio eni di vigiano nel potentino segnalata dall'osservatorio popolare della val d'agri ha mai superati i limiti di legge nelle missioni assicura l'azienda intorno alle ore 10 per circa un'ora è scattato l'allarme nell'area zolfo e della quinta linea dell'impianto di estrazione petrolifera con rilascio di grandi quantità di gas dal cammino della quinta linea e della torcia sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed è stata avvertita l'ARPAB ma per l'azienda non ci sono anomalie ieri su iniziativa della rotaract club di potenza presso il reparto di pediatria dell'azienda ospedaliera san carlo di potenza sono state donate delle uova di pasqua ai bambini ricoverati l'iniziativa ha avuto il sostegno del direttore generale del san carlo massimo barresi e del personale presso la struttura la vera sorpresa hanno dichiarato i giovani associati e lasciarsi sorprendere questo è quello che accaduto e che ci ha visti al fianco dei più piccoli i pazienti affetti da fibrosi cistica e alle famiglie dei piccolissimi pazienti assistiti in terapia intensiva pediatrica le uova donate hanno anch'esse una storia singolare ogni socio del club ha infatti contribuito all'acquisto presto la fondazione rosangela d'ambrosio onlus la quale si prefigge di mantenere vivo il sorriso la forza e la vitalità che hanno reso rosangela una ragazza speciale si prefigge di mantenere vivo il suo amore per i bambini con i quali era solita giocare con amorevolezza e dedicar loro attenzioni e tutta la sua letizia anche a matera un momento di raccoglimento cittadino per la processione del venerdì santo tra le vie del centro storico della città ad accompagnare le statue del cristo della madonna della dolorata la confraternita dei pastori i pastori dell'anima la confraternita del cristo flagellato e i componenti dell'associazione maria santissima della bruna che hanno seguito il percorso di via san biaggio piazzo vittorio veneto via 20 settembre via mendola la processione seguita alla santa messa celebrata all'interno della chiesa di san biaggio presieduta da donna francesco gallipoli e monsignor antonio giuseppe caiazzo i cammini tra radici e futuro a irsina in scena la passio cristi un momento di altissima spiritualità si è vissuto venerdì 19 aprile nel centro storico di irsina la cittadina del materano riconosciuta come uno dei borghi più belli d'italia dove è andata in scena la rievocazione storica della passione di cristo attraverso un percorso itinerante organizzato perfettamente nelle suggestive vie e negli spazi del pittoresco borgo tantissimi spettatori hanno potuto rivivere calvario crocifissione e morte di gesù cristo la perfetta organizzazione scenografica e la preparazione degli interpreti primi fra tutti francesco desiante e antonietta cavallera rispettivamente gesù e maria hanno segnato il successo dell'iniziativa col comune di irsina ha concesso il patrocinio che da tre anni grazie all'impegno di don michele francabandiera riesce ad unire tutte le parrocchie unitamente all'intera comunità cittadina e ad alcune associazioni culturali e di promozione sociale la passiocristi ed irsina rientra nel progetto i cammini tra radici futuro il contributo dell'arcidiocesi di matera irsina al percorso di matera 2019 abbiamo deciso di aderire a questo progetto proprio perché come comunità ci vogliamo coinvolgere in un cammino sinodale proprio quest'anno la diocesi sta vivendo questo cammino sinodale e la passiocristi che per la terza edizione ecco anche quest'anno mandiamo in scena proprio vuole dire a noi che siamo coinvolti in primis ma tutta la nostra diocesi in modo particolare a tutti i convenuti che vogliamo camminare insieme vogliamo sperimentare la gioia di condividere l'unica fede è proprio gesù ecco che ci indica questa strada l'ambientazione di questo evento nel centro storico di irsina riconosciuto da un anno tra i borghi più in Italia si presta ad essere set naturale di questo evento che sicuramente avrà un futuro e che promuove ancora una volta la nostra città e a Matera è stata inaugurata la seconda edizione della mostra la via della croce ha preso il via venerdì 19 aprile a Matera presso l'ex ospedale San Rocco la seconda edizione della mostra la via della croce che quest'anno ha come filo conduttore i riti della settimana santa la mostra si articola in due sezioni la prima dedicata ai riti della settimana santa in Basilicata che offrirà ai visitatori l'opportunità di scoprire le rappresentazioni che si svolgono nei centri lucani nel periodo pasquale con una mostra fotografica e la proiezione di filmati tratti dall'archivio di TRM Network alcuni dei quali realizzati durante la rappresentazione vivente della Passione di Cristo promossa da Europassione a Matera seconda sezione invece dedicata ai riti sacri di Francavilla Fontana con la via crucis dei pappamusci e crociferi e l'esposizione dei relativi costumi e manufatti indossati e utilizzati durante la processione quest'anno abbiamo voluto fare come seconda edizione delle manifestazioni a via della croce raccogliere qui a Matera tutte quelle che sono le tradizioni popolari di quella della settimana santa in Basilicata anche in concordia con quello che è lo spirito di Matera 2019 quindi non è solo Matera capitale europea della cultura ma è tutta la Basilicata per cui abbiamo voluto portare qui le manifestazioni appunto di tutti i paesi della Basilicata dove si realizzano queste manifestazioni sia quelle sacre che quelle anche teatrali diciamo le rappresentazioni sacre oltre che quelle le processioni religiose perché ce ne sono molte che contestualmente fanno la processione religiosa e anche la rappresentazione sacra l'iniziativa è organizzata dall'associazione Matera Convention Bureau con la collaborazione della soprintendenza archeologia, bellearchi e paesaggio della Basilicata del comune di Matera e Francavilla Fontana, delle Proloco e della Fondazione Sassi l'esposizione sarà visitabile fino al 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 Matera Alberga inaugurata l'installazione d'arte contemporanea di Salvatore Arancio Matera Alberga una prima parte almeno si spera che possa continuare giunge al termine, come è andato questo processo di cui abbiamo parlato? è andato benissimo devo dire, il confronto con la città richiesto dagli obiettivi di produzione delle opere è stato magnifico, io stesso che sono nato qua ho imparato tantissime cose dai materani e dalla civiltà rupestre che abbiamo indagato con molta più attenzione ovviamente dovendo per rispetto alla città fare un lavoro più profondo, più rigoroso è stato un processo di partecipazione vero e proprio e le opere sono partecipative molte di queste sono addirittura calpestabili, sperimentabili, le attivi tu con la tua presenza altre come questa comprendono la vita dei materani e le nostre ferite, le nostre fratture morali quelle per esempio tra la nostra superficie e il sottosuolo quella tra i sassi da questo lato e la murgia e la gravina dall'altro lato dove gli artisti sono intervenuti a ricomporre queste fratture questa installazione diciamo cerca di unire le due sponde la murgia con questa parte di Matera diciamo è nata attraverso il colloquio, discussione con la gente locale il curatore Francesco Cascino e Cristian Caliandro e attraverso questa discussione si parlava un po' di questo diciamo di stacco tra queste due sponde, questo senso diciamo di qualcosa che manca che potrebbe essere che ne so anche il discorso del vicinato che è venuto a mancare dopo diciamo il trasferimento delle persone di Matera nelle periferie la forma della scultura arriva proprio dalla murgia perché è una pietra che è stata presa se esci dalla terrazza e fai così col dito vedi questa caverna e la pietra arriva proprio da lì quindi è fisicamente portata, trasportata qui scansionata in 3D è diciamo rielaborata è creata, è diventata questa scultura quindi sì, anche lì c'è una connessione tra una sponda e l'altra E siamo allo sport, calcio serie D il giudice sportivo ha respinto il reclamo del Taranto presentato a seguito della rissa scoppiata nell'intervallo della gara di giovedì scorso a Picerno terminata senza reti e con la promozione dei Lucani in serie C lette le controdeduzioni con le quali si deduce la genericità e infondatezza della ricostruzione pugliese è stato confermato il risultato del campo ma combinata a una squalifica di un turno dello stadio Donato Curcio con prossimo impegno del Picerno da disputarsi in campo neutro a porte chiuse oltre a un'ammenda di 3.000 euro nelle motivazioni del giudice specificato come un addetto alla sicurezza durante l'intervallo nell'area degli spogliatoi ha colpito alcuni calciatori della squadra ospite con un tirapugni di ferro tale condotta di violenza è scritto nel comunicato ufficiale creava un clima di grande tensione rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e l'allontanamento degli addetti alla sicurezza nonché un ritardo nella ripresa del gioco di circa 30 minuti ancora lo sport Bauer Matera ultimo impegno della stagione a Scauri ultimo impegno della regular season per l'Olimpia Bauer Matera che questa sera scenderà in campo per la trentesima giornata al Palaborelli di Scauri con palla 2 alle 20.30 una gara ormai ininfluente ai fini della classifica dopo che i bianco-azzurri di Coccio Riglio hanno centrato aritmeticamente l'obiettivo del quarto posto si tratta della terza partita nel giro di sei giorni che servirà a far rifiatare qualche titolare e dar spazio ai più giovani al fine di preparare al meglio la seconda fase della stagione rappresentata dai play-off io sono convinto che come sempre come tutte le partite i ragazzi approcceranno le partite o meglio questo si può definire la serie nel modo giusto perché sono dei ragazzi seri dei ragazzi preparati dei ragazzi che si fanno ben guidare naturalmente sappiamo che poi la posta in palio sarà molto più alta sappiamo che è un avversario che conosciamo poco perché ci incontreremo con l'altro girone sappiamo che poi in una settimana dovremo giocare tre partite almeno due quanto meno sappiamo di tutte le difficoltà che in play-off ti può dare però l'approccio la mentalità io credo che sono convinto più che credo sono convinto che non non cambi la nostra il nostro modo di essere perché ho fiducia in questo gruppo e soprattutto mi fido di questi ragazzi che hanno saputo conquistare innanzitutto un quarto posto importante nella griglia di play-off e prima di chiudere vi ricordo che sarà l'arcivescovo della diocesi Matera Irsina Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo a celebrare domani la Santa Messa del giorno di Pasqua nella Basilica Cattedrale TRM Network trasmetterà l'intera celebrazione eucaristica con una diretta che partirà alle ore 10 e 15 di domenica 21 aprile su TRMH24 canale 16 del Digitale Terrestre in Puglia in Basilicata e 519 della piattaforma Sky in streaming inoltre sul sito www.trmtv.it sulle app TRM TV per iOS e Android oltre che su tutti i canali social ed ora prima di salutarvi vi lascio ad un redazionale dedicato ad Acqua World è tutto vi auguro un buon proseguimento arrivederci con l'idea di unire diverse attività legate al fitness al benessere alla riabilitazione e al divertimento caratterizzate da un unico elemento l'acqua a Matera c'è Acqua World Acqua World è un esclusivo wellness club polifunzionale ogni livello della struttura contiene al suo interno varie aree ognuna dedicata corsi differenti attrezzi e tecnologie all'avanguardia istruttori qualificati e competenti in questa occasione vi presentiamo la sala fitness quello che caratterizza questa palestra è principalmente l'allenamento di tipo funzionale ovvero un allenamento che mira a migliorare i gesti che poi noi compiamo nel quotidiano allacciarsi le scarpe oppure sollevare nostro figlio o semplicemente fare uno scatto per un motivo di emergenza diciamo così il funzionale migliora tutto questo l'obiettivo non sarà soltanto migliorare la forza e l'esplosività che è sì un obiettivo del funzionale ma anche quello di migliorare la condizione aerobica di ognuno di noi e oltre che divertirci come dei matti la strumentazione che utilizziamo non è la strumentazione classica o i classici ergometri da palestre ma degli attrezzi che utilizzano il metodo kinesis quindi ci si muove con dei cavi liberi nello spazio e appunto migliora anche l'allenamento di tipo funzionale anche se non stiamo facendo un corso specifico il valore aggiunto è che sì si può potenziare il proprio corpo però c'è un basso carico articolare tant'è vero che viene usato anche nei protocolli di allenamento dello yoga o del tai chi o di altre discipline olistiche l'articolazione non è bloccata o vincolata ad un movimento classico quindi se uno ha un problema questo problema non viene diciamo così evidenziato o accentuato oltre quanto detto un altro raggiunto di questa struttura di questa palestra è quello di poter seguire i clienti quasi con un rapporto diretto è vero non è il classico rapporto one to one di un personal trainer però è chiaro che quello è compreso all'interno della struttura qualora qualcuno ne avesse bisogno però per dimensioni e per nostra scelta riusciamo a seguire anche con un colpo d'occhio più o meno tutti i gesti che le persone qui dentro compiono e poter dare un servizio adeguato anche nelle correzioni di eventuali esercizi sbagliati in ogni caso qualora qualcuno ne avesse bisogno questa palestra dà la possibilità di avere un personal trainer quindi un rapporto one to one e soprattutto in questo periodo con l'avvicinarsi della bella stagione e con un magari con una voglia di raggiungere più velocemente gli obiettivi dopo una valutazione corporea all'interno di questa struttura grazie alla nostra strumentazione si fa una scheda e un allenamento di tipo personalizzato valutando ogni componente e ogni caratteristica dell'utente noi siamo a Quaward e venite a trovarci in via delle comunicazioni a Matera ansi a a a a a a a a Grazie a tutti.